Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video flash. Vi chiedo scusa se ho lo stesso trucco del video di ieri, però li ho registrati entrambi oggi perché domani 1 dicembre starò registrando il primo vlogmas, non vedo l'ora. Volevo semplicemente dirvi che vi lascio qui sopra il video del giveaway. Mi raccomando partecipate in molti anche perché ha una durata abbastanza lunga quindi avrete tempo per partecipare. Durerà dal primo al 15 dicembre. Ascoltate bene le regole e non vi sbagliate, ci tengo anche perché mi dispiacerebbe escludere qualcuno poi dall'estrazione finale. Per chi non mi conoscesse mi chiamo Fabiola e registro video abbastanza fuori di testa, quindi se ancora non vi siete iscritti al mio canale iscrivetevi e andate a dare un'occhiata a tutti i miei video in modo tale da farvi un'idea su chi sono. Oltretutto se non avete partecipato al mio vecchio giveaway vi spiego velocemente come avverrà poi l'estrazione del vincitore. Siccome non voglio che nessuno pensi che sia pilotato, che possa vincere qualche mio amico che effettivamente voi non conoscete e tutto quanto, onde evitare imbrogli ci sarà la diretta il giorno previsto per l'estrazione nel quale andremo a fare completamente in diretta l'estrazione e quindi tutti voi sarete testimoni o meglio chi ci vorrà essere o chi ci potrà essere. Detto questo vi saluto, grazie del tempo dedicato, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!